Michele Grimaldi ha ricevuto il rinnovo dell'incarico di direttore dell'archivio di Stato di Bari e delle sezioni di Trani e Barletta. Gli è anche stata affidata la direzione dell'archivio di Stato di Foggia e della sezione di Lucera. Lo abbiamo incontrato. Io ho ricevuto il rinnovo dell'incarico per l'archivio di Stato di Bari e delle sezioni di Barletta e Trani per un altro triennio e vista la carenza di funzionari, dirigenti e archivisti mi è stato chiesto dalla direzione generale di assumere ad interim anche la direzione dell'archivio di Stato di Foggia con l'importantissima sezione di Lucera. Un incarico che mi fa veramente piacere ma che comporta anche delle responsabilità maggiori dal punto di vista anche della conduzione di questi archivi che sono importanti per numero e soprattutto per importanza dal punto di vista dei documenti che conservano. Quindi mi fa piacere ma mi dà anche molta responsabilità. Abbiamo visto anche l'attenzione che ha la gente nei confronti di questo archivio di Stato nelle sue diramazioni. E' un'attenzione che è del tutto meritata perché il patrimonio custodito è davvero straordinario. Ora forse si incomincia ma questo grazie al grossissimo lavoro che viene fatto di divulgazione e valorizzazione dei documenti che conserviamo si incomincia a capire ed a conoscere che cosa veramente è un archivio cioè una fonte inesauribile di storia. Storia poi non storia, la macro storia. Qui parliamo di storia delle comunità, delle comunità nostre, del territorio che sono importantissime andare a ricostruire un po' la vita dei nostri territori attraverso i documenti che poi è l'unica storia vera ed accettabile perché deriva esclusivamente dai documenti.